Uno dei mutanti più forti che la Marvel abbia mai creato. Sicuramente il più forte del suo universo di origine è sicuramente un villain così potente da aver distrutto diversi universi nel corso della sua storia. Oggi parliamo del Marchese della Morte, parliamo della sua storia, di come ha avuto a che fare con i Fantastici 4 e Victor Von Doom e poi anche del suo epilogo. È una storia molto interessante, a tratti forse sarà difficile da seguire perché quando si parla di multiverso, di poteri così sovrannaturali a volte è difficile spiegare, ma sicuramente molto molto interessante. È una storia anche abbastanza recente in realtà e oggi siamo qui pronti a parlare. E bisogna partire proprio dal Marchese. In realtà partiamo da quello che era il suo vero nome, ovvero Clyde Weinchamp. Questo ragazzo nasce in un mondo in cui non esistono gli eroi. Ok? Quindi nasce in un'altra terra. Terra 1-2-1-9. È una terra completamente diversa dalla nostra. E lui è l'unico in assoluto che ha dei poteri. I suoi poteri, ve lo dico subito, sono molto semplici in realtà da descrivere. Sono poteri che fanno manipolare la realtà. Punto. Ecco, la prima cosa che fa il ragazzino, perché è veramente un ragazzino a conoscere questa cosa, è far risorgere suo padre. Ecco, questa cosa spaventa sua madre. L'ultima persona che ha fatto risorgere qualcuno in realtà era stato accolto meglio. Infatti sua madre prende un candelabro e glielo tira in testa. Questa cosa causa un grandissimo danno celebrare a il ragazzo, che viene preso e messo in un istituto. In questo istituto, Clyde passa la maggior parte del suo tempo, per non dire tutte le sue giornate, e le passa rinchiuso in se stesso a leggere fumetti. A un certo punto, infatti, addirittura vi verranno tolti questi fumetti perché è sempre attaccato con fumetti della Marvel e gli viene addirittura detto se sei così tanto innamorato della Marvel allora chiama i supereroi. E ovviamente Clyde non se lo fa ripetere due volte. Quello che fa il personaggio è aprire di fatto un portale interdimensionale che porta diversi personaggi Marvel nella sua realtà, tra cui anche i Fantastici Quattro. Questi personaggi non causano troppi problemi. In realtà, ovviamente, tutti sono stupefatti di quello che sta succedendo, ma per sua fortuna in realtà ha portato nella sua dimensione anche un uomo come Reed Richards che decide quindi di trovare una soluzione. L'unica soluzione possibile per questo ragazzo è una soluzione che non faccia male né a lui né a tutte le persone del multiverso, visto che lui è in grado di viaggiare per vari universi. È quello di prenderlo, portarlo in Terra 616, in cui comunque ci sono gli eroi, quindi sicuramente è più facile tenerlo a bada, e lo piazza in un'area dei militari dell'America, area 87. Crea una gigantesca camera cibernetica che di fatto è una sorta di elmetto che tenga a bada i poteri di Clyde e lo posiziona lì e lo lascia là per diverso tempo. Ora, questa è la storia di Clyde che noi conosciamo, il Clyde che da Terra 12-19 finisce in Terra 616. Il Marchese della Morte però, e questo non ve l'ho detto perché volevo ottenere questa informazione un po' per me almeno inizialmente, proviene da un altro universo ancora. La sua storia è identica comunque a questa, ma c'è una piccola differenza. Nella Terra in cui viene portato da Reed Richards ad un certo punto succede qualcosa, qualcosa che effettivamente cambierà questo personaggio. Di fatto l'area 87 in cui è rinchiuso viene attaccata da diversi villain dell'universo Marvel. In realtà provano a liberarlo, in realtà credono di poter anche utilizzare i suoi poteri, ma Clyde li uccide tutti. Una volta aver fatto proprio questo atto indicibile, questi primi omicidi, Clyde si rende conto che ne vuole ancora. Ed è proprio qui, ragazzi, che nasce il Marchese della Morte. Beh, è una storia di origine abbastanza semplice. Per quanto riguarda i poteri, nonostante questa sia una versione alternativa, sono veramente gli stessi di Clyde. Sono poteri mutanti che hanno a che fare con la manipolazione della realtà a livello cosmico e multi-universale. Difatti, proprio a livello multi-universale, il Marchese della Morte decide di iniziare a viaggiare per il multiverso. Difatti, inizia a viaggiare per altre dimensioni e anche per il tempo. Viene infatti detto che il Marchese della Morte, prima di partire con la sua vera e propria crociata, spende miliardi di anni a imparare a utilizzare la magia. Quindi, sì, i poteri sono gli stessi, ma c'è da dire che questa versione è una versione estremamente esperta rispetto al Clyde, che anche ora in questo momento si trova in Terra 616, che è lì nella sua stanza, tutto tranquillo. Comunque, in quanto Marchese della Morte, una volta aver passato miliardi di anni a imparare le arti magiche, inizia a viaggiare per il multiverso e a distruggere ogni singolo universo che incontra. Durante il suo viaggio, grazia solo un universo. Perché? Perché trova un ragazzo molto giovane, che per lui è promettente. Questo ragazzo, ovviamente, visto che l'ho citato anche nell'intro, e visto che ne stiamo parlando diverse volte su questo canale ultimamente, è proprio Victor Von Doom. I due si conoscono quando Doom è ancora giovane, e quindi ancora non ha iniziato la sua vera e propria carriera da supervillain. Però il Marchese si rende conto che questo giovanotto è molto promettente, quindi dopo avergli insegnato due cose, se ne va e lo lascia ovviamente la Terra intatta e promette che sarebbe tornato a far visita al suo protetto prima o poi. Passano diversi anni, decenni, in cui il nostro Marchese distrugge universo per universo, passano circa vent'anni, e decide quindi di tornare su Terra 616, insieme, perché questa è anche una cosa importante, ad altri personaggi che sono i suoi servi, possiamo dire gli sgherri del Marchese, che lo accompagnano ovunque. Arriva sulla Terra e ovviamente arriva da Doom, che lo aspettava, e prepara una vera e propria festa in suo onore. Il Marchese però si dimostra sin da subito molto deluso da Doom. Nonostante questo ragazzo avesse del grandissimo potenziale, si rende conto di tutti i fallimenti che Doom ha ricevuto nel corso della sua carriera. Fallimenti ovviamente che hanno a che fare con i vari eroi della Terra. Si lamenta del fatto che Doom sia il re di un paese, testuali parole che neanche il Marchese ha mai sentito nominare, e quindi decide di risolvere la situazione come pensa che sia il modo migliore, insomma. Ne nascerà quindi un combattimento tra i due, e durante questo combattimento, un Doom alleato proprio con quasi tutti gli eroi del pianeta Terra, riesce finalmente a imprigionare il Marchese in una piccola scatola chiamata Omega Box. Passano cinque anni da questo combattimento, e Doom ha cambiato completamente strada. Di fatto ha portato il mondo in una nuova era, un'era in cui ha sconfitto un sacco di malattie come l'AIDS, come il cancro, e addirittura ha sposato la donna invisibile, dalla quale aspetta addirittura un figlio. Tutto sembra procedere alla grande, anche voi vi starete dicendo come è possibile. Doom ha sposato la donna invisibile, stanno per avere un figlio. Infatti, ragazzi, si scopre, poco dopo, che in realtà la Sue Storm che Doom ha sposato non è altro che un apprendista del Marchese. Il Marchese, infatti, non era intrappolato nella Omega Box, bensì ha creato quest'illusione. Nonostante per Doom siano passati cinque anni, per il Marchese ne sono passati solo cinque di secondi addirittura. In poche parole, il Marchese decide di distruggere Latveria, anzi, in realtà, non tutto lo Stato, ma solo la capitale, e decide di andarsene e di dirigersi verso i Fantastici Quattro. Prima di andare dai Fantastici Quattro, però, apre un portale interdimensionale diretto al passato, letteralmente nel Pilo Cene, in un mare preistorico, dove prende Victor Von Doom, lo lascia senza maschera, perché la maschera se la mette il Marchese addosso, e lo lancia nell'oceano. L'ultima cosa che vediamo di Doom è che viene mangiato da un megalodonte. Il nostro Marchese, quindi, decide di andare dai Fantastici Quattro al Buster Building, e non li vuole uccidere subito, ma decide inizialmente di torturarli. Prende Ben Grimm, per esempio, e gli fa assistere alla morte di sua zia, Petunia, e fa vedere, invece, a Johnny Storm tutte le varianti di Susan che sono state uccise nel corso della sua crociata nel multiverso. E, in più, chiede a Reed Richards, anzi, ordina a Reed Richards diverse cose. La prima è di uccidere suo figlio, Franklin, ovviamente Reed si rifiuta. La seconda è di uccidere il suo migliore amico, Ben Grimm, e anche lì Reed si rifiuta categoricamente. E poi il Marchese gli chiede di uccidere la sua variante, di uccidere Clyde. Vi ricorderete Clyde che esiste anche su Terra 616, ma Reed si rifiuta nuovamente perché Clyde è innocente. Tutti questi crimini sono stati compiuti dal Marchese, che è un'altra variante completamente diversa. Tra l'altro, visto che l'abbiamo citato, Clyde avrà anche un ruolo in questa storia, perché la cosa andrà proprio nell'area 87, preleverà il mutante e lo porterà verso la sua controparte malvagia. C'è uno scontro, infatti, tra il Marchese e Clyde. Clyde ovviamente viene sconfitto perché il Marchese è molto più allenato di lui, ma il Marchese comunque rimane estremamente indebolito dopo lo scontro, nonostante ne sia uscito vincitore. Qui abbiamo il primo grande reveal di questa storia. E nonostante siamo verso la fine del video, vi dico che è il primo, perché poi ce ne sarà un altro proprio verso il finale. Difatti si scopre che uno degli apprendisti del Marchese era in realtà Victor Von Doom. Ah, e com'è possibile, direte voi? Il nostro Doom ci spiega che quando viene lanciato in questo oceano del Pilo Cene, intanto sopravvive ai megalodonti e da lì in poi decide di allenarsi ancora di più con la magia. Grazie a questo suo allenamento scopre anche l'immortalità, scopre diverse tecniche magiche che lo portano poi a cambiare totalmente il suo corpo, molecola per molecola. Una volta aver cambiato completamente il suo corpo e essersi reso irriconoscibile dal Marchese, diventa poi suo apprendista e lo accompagna per la sua crociata nel multiverso. Proprio in questo momento Doom si rende conto quindi che era il momento di attaccare e finalmente lo uccide quando il Marchese viene proprio indebolito dalla sua controparte, diciamo buona, che era in Terra 616 nell'area 87. Doom quindi ha passato milioni di anni ad allenarsi e adesso ha una forza incredibile. Questo sorprende ovviamente i lettori, in primis, e anche i Fantastici 4 che non ci possono credere. E questo è veramente un grandissimo turning point in realtà, sembra un grandissimo turning point per la vita di Doom, anche perché uno dice cavolo che potenziamento assurdo ha avuto Doom. In più abbiamo appena scoperto che questo personaggio nel canone, perché stiamo parlando di Terra 616, è vecchio miliardi di anni. Bene ragazzi, in realtà dobbiamo fare qualche passo indietro perché arriviamo al secondo gran bel reveal di questa storia, che riguarda però un'altra storia, un'altra collezione. Di fatti parliamo di Dark Avengers, in particolare il numero 176. Qua scopriamo che i Dark Avengers a un certo punto viaggiano nel tempo, viaggiano proprio nel momento in cui Doom viene scaraventato nell'oceano dai megalodonti. Di fatti Doom sopravvive ai megalodonti, ma viene salvato dai Dark Avengers che lo riportano poi alla nostra realtà. Quindi in poche parole, nel canone non è vero. Doom non ha passato milioni di anni a far finta di essere il suo apprendista, verosimilmente si è scambiato con l'apprendista poco prima della sconfitta del marchese, anzi, sconfitta dell'indebolimento del marchese per mano di Clyde. Quando dico, e lo dico spesso di questo canale che Doom è una vera e propria drama queen, ragazzi, è vero. Piuttosto di non dire che è stato salvato da qualcun altro, si è inventato questa cosa che ha passato milioni di anni ad allenarsi. E ci sta, vabbè, ognuno è fatto a modo suo e Doom è fatto in modo particolare. Io comunque, ragazzi, prima di concludere il video vi lascio due contenuti molto interessanti che riguardano la storia di Doom, in parte la storia delle sue origini e dall'altra, invece, la storia di come ha conquistato il mondo per ben tre volte. Io vi lascio il video e mi raccomando fate i bravi. Ciao a tutti.